amici zagoreani buongiorno oggi visto che molti mi chiedono di vedere qualche zenith che ancora non ho fatto vedere non ho fatto vedere quasi quasi nessuno filmati sugli zenith faccio far vedere un recupero che ho fatto da poco di tre zenith una fascia bassa non bassissima bassa 72 70 80 avevo da sostituirli perché erano un po sciupacchiati allora vi faccio vedere questo recupero per parlare anche un po di zenith di collezionismo proprio della serie originale vi faccio vedere questi tre pezzi che mi sono arrivati molto belli secondo me sono molto belli diciamo non sono da magazzino edicola ma io non li cerco così mi basta che siano belli non non restaurati senza segni di penna senza segni di di strap o di matita anche se sono un po leggermente ingialliti non mi interessa basta che siano integri e io diciamo che è già un un pezzo molto molto soddisfacente per il mio criterio non non ambisco si dice ambisco si alla serie da edicola non mi interessa basta che quando li metto in fila le costole siano belle pulite e integre allora vi faccio vedere velocemente questi questi tre numeri 72 un bel 72 vedete la costola bianca pulita nessun danno nessuna un po ingiallite le pagine ma vi ripeto non mi interessa mi va più che bene così un 79 clark city anche questo bello copertina integra senza bollino costola bianca perfetta anche il retro a parte qualche segno di dell'età nessun problema pagine interne bianche e poi l'ottanta cacciato di uomini anche questo senza bollino copertina perfetta bianca costola anche qui perfetta il retro niente da dire anche queste pagine bianche tutte integre ecco questo è per me è già un ottimo albo per il mio criterio di valutazione non ha niente per per poter essere considerato meno di un ottimo albo secondo me non ha difetti di sorta ecco allora per parlare un po degli zenti ho fatto vedere questo bel recupero questo bel recupero di tre albi 72 79 e l'ottanta poi torneremo a parlare di zenith nel dettaglio per altre cose buona giornata a tutti